Che mangi? Un limone E briochina? Che è? Non ci sta più niente Le biscotti Le rischiette e biscotti Vuoi il pan brioche con la nutella? Vuoi i biscottini? Basta La faccia del lato, questo è? Non è troppo Guarda che è finito Anzi, si dovrebbero arrabbiare tutti con te Perché era l'ultimo latte Non ti preoccupare No, io mi arrabbio con te Che tu te lo sei fatta stamattina nella colazione Ma io il latte non lo bevo Eh, ci credo proprio Lei se l'è potuta fare Si è alzata alle 10 e mezza Non è stata letta come me fino a l'una Io rimango pure fino alle 2 a letto E poi a me il latte Io non lo bevo il latte Ve l'ho già detto Mi fa male la pancia Bevo solo lo zimile Non c'è l'occhio più chiaro Mercoledì Beh, perché l'hai abituata a chiedere di mille? Eh, però la scuola settimana era mercoledì che ce l'hanno portato quelle cose Se Alice dice che oggi è domenico, oggi è domenico, ok? Capito? Ah, oggi ci portano i ragioni Il buffet Il buffet Vedi? Il brunch C'è un mal di testo Perché oggi, eh? Piccola di... Cosa? Oggi è domenico Ecco Oggi è sempre domenica E in questa casa non si fa dizzatura Mai Questa casa ho sempre ragione io E tu anche, eh? Solo io? Perché la ragione è degli... Mi fessi Allora quando ieri mi dicevi Lì c'era solo Lì c'era 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 sempre te Perché sapessi Madonna, ieri mi faceva il solito Cioè, non ce la potevo fare Jennifer è anche incazzata No, poi ci ho parlato io con Jennifer Cioè, fate tutto a posto quando volete Cos'è grasso? Sì, cazzo Tu hai ragazzo Il mio bambino è il terzo mondo Ce l'ha molto grande io Delle tue Prima vuoi riscaldare un po' Anche io Facciamo tipo mille flessioni Ci sto Ottomila addominali Andiamo a dormire? Andiamo a dormire? Andiamo Sporca Sporca È tutto sporco È tutto sporco Sì, non appoggiare la faccia per terra È sporca a terra È sporchissima a terra Non vale più la cosa degli eri Non vale più Non vale più Non vale più Non vale più Luca, Luca? 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 No Sì Non vale più la cosa di me Non mi conviene neanche È pulito È pulito Tutto Tutto quanto Bravolo vedi com'è bello ha piovuto da me? ha piovuto? ha piovuto? si fa una domanda basta ha piovuto lì? si no non ha piovuto non ha piovuto dai lui che ti prego mi stai a fare un sacco male quindi mi devo andare? no stai quanto vuoi tranquillo quanto vuoi proprio per me è un piacere è un piacere per te? è un piacere si no? hai lato? hai lato? puoi anche alzarti grazie è molto gentile i stracci mi servirebbero un po' di stracci abbiamo venuto a fare un po' di domenica le pressioni è aperta la palestra si? si ti ha fatto una domanda Mario? io ho risposto non l'ho sentito si è aperta la palestra Mario rispondi con una frase di senso compiuto capito? guarda la che c'è paura quando mi ha messo perché perché sa che sa più forte io non l'ho sentito ai no aia 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 aia